ecco che si riparte ragazzi da quel di budapest oggi direzione lubiana ovvero slovenia budapest che è molto bella davvero merita una visita veramente ho visitato un po le cose principali mancherebbe ancora tanto però devo dire che dalla città appunto direzione slovenia con un passaggio sul lago baraton qua in ingheria e poi lo sconfinamento in slovenia eccoci ragazzi inizia a entramvedersi in lontananza del lago baraton ho deciso di fare la costa nord per ora non mi sta piacendo la strada che dovrei capire se ce n'è uno un po' più interno però qua c'è camping in ingheria in ingheria in ingheria in ingheria finalmente ci vede un po' di lago ragazzi rieccoci ragazzi siamo per lasciare le rive tra virgolette del lago baraton e niente adesso ce ne andremo verso il confine con la slovenia e proseguiremo verso proseguirò verso lupiana ed eccoci qua ragazzi slovenia all'altezza di mariborg ora facciamo gli ultimi chilometri verso lupiana che ranno un 120 chilometri più o meno comunque ragazzi la slovenia da girare in moto è spettacolare spettacolare ragazzi slovenia all'altezza di mariborg qui sul slovenia all'altezza di mariborg Grazie a tutti. Mi sto avvicinando sempre di più a Ljubljana, guardate che paesaggio ragazzi, paesaggio bellissimo. Strada molto bella, poi farò una breve visita a Ljubljana, almeno vedere il centro com'è. Comunque molto bella, strada slovene top. E rieccoci ragazzi, si parte da Ljubljana, città molto bella. Bella e tranquilla perché è bene, c'è in giro tanta gente. Sicuramente si riparte da qua, oggi tappa breve ma penso carina. Diciamo che sconfinerò poi in Austria per restare sul confine poi tra Austria, Slovenia e Italia. visto che poi mercoledì, fra un paio di giorni rientrerò. E oggi farò un po' un girettino carino, andrò a vedere il lago di Bled. e poi andrò verso l'albergo facendo un bel passettino, credo. non è tantissima strada, sono 200 chilometri, però credo che sarà una bella giornatina oggi. un paio di natura eccoci qua ragazzi posto molto turistico infatti un sacco di stranieri cioè anche io sono straniero però c'è un sacco di turisti come me però essendo che sono in macchina si crea casino e qua ragazzi c'è il lago di Bled su vediamo se si vede il castello esatto la c'è il castello di Bled aspettà lì lì bellissimo guarda che bello qua che bello seconda d'arco bellissimo ragazzi guarda che bello buce 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 foto buce via perfetto davvero molto bello ora si torna indietro guarda che castello lì spettacolo bel posticino guarda che va vorrei metter su a che vista a che vista con da drago è piccolino come lago e non è chissà cosa grande però bello guarda che bello